Bene, bentrovati per il secondo appuntamento intorno al rapporto tra sapere scientifico e sapere umanistico, una vecchia questione, antica questione. E oggi in particolare questo rapporto sarà messo a tema dal nostro ospite d'onore. Giulio è la nostra colonna portante. Giulio Giorello, come sempre, coordinerà il dialogo con l'ospite che questo pomeriggio è il professor Claudio Bartocci, insigne matematico. Ma, come non sempre accade, è uno scienziato, uno studioso di scienza, che ha una cultura non indifferente, anzi direi, sorprendente. Anche i saperi umanistici, letterari, filosofici, come pochi matematici, a mio parere, hanno. E poi, tra l'altro, lui ha curato, ricordo, qualche anno fa, tra l'altro, una antologia di racconti matematici per Einaudi. Quindi ha sempre lavorato, oltre che intorno alle sue cose, numeri, calcoli, anche in un settore un po' più ampio. E oggi, appunto, si parlerà di questo strano rapporto, stranissimo rapporto, tra anima ed esattezza, letteratura e matematica. L'esattezza ha a che fare con la nostra anima, ammesso che ci sia un'anima, non in senso, perché se no Giulio Giorello si preoccupa, non è in senso teologico, religioso, ma la psiche, la psiche, in che senso ha a che fare con noi l'esattezza? Certo, l'esattezza ha a che fare con buona parte delle nostre pratiche, la cerchiamo disperatamente, c'è spesso, ma la vita non è fatta solo di esattezza. Oggi vediamo cosa ci racconta, appunto, Claudio Bartocci, ma prima di dargli la parola, come sempre, do la parola al coordinatore dell'incontro, al professor Giulio Giorello. Bene, intanto grazie a tutti voi che siete qui, può sembrare forse che il tema del rapporto tra matematica e letteratura sia un tema che intimidisce, non mi pare che voi siate intimiditi, e sono ben contento che ci sia un pubblico così numeroso a sentire questa nostra chiacchierata, che tra l'altro è soprattutto una presentazione del lavoro che Claudio Bartocci ha svolto e svolge, direi, se posso usare questa metafora un po' abituale, sul confine proprio, tra matematica da una parte e letteratura dall'altra, tenendo conto, naturalmente, che le connessioni sono molteplici, che la matematica ha più volte interagito con l'espressione artistica, basterebbe pensare alla dolce prospettiva dei matematici del IV e del Vincenzo, per rendersi conto di come la matematica sia stato uno dei più grandi strumenti per creare mondi nuovi. In un libro che Claudio ha pubblicato presso l'editore Cortina, che si intitola Dimostrare l'impossibile, è anche uno dei libri qui presenti, e lì si fa proprio vedere come la matematica interviene appunto a dimostrare quello che sembrerebbe una sfida, anzi un'impossibilità, per la nostra mente umana, l'anima, come direbbe l'amico Dona. Coloro che hanno qualche ricordo, magari incuboso, della matematica studiata nel liceo, classico o scientifico, o comunque in una scuola parallela al nostro liceo, forse si ricordano di un dramma che colpì la comunità matematica. Dopo che Pitagora aveva sostenuto che il numero era il principio di tutte le cose e che quindi le relazioni tra grandezze potevano essere espresse come rapporti numerici, rapporti numerici qui va inteso come tra i familiari numeri 1, 2, 3, 4, eccetera. I greci non hanno il concetto di numero negativo, però avevano il concetto sostanzialmente di numeri e di frazioni appunto che prendevano il loro numeratore e il loro denominatore nel dominio dei numeri che noi chiamiamo adesso naturali, appunto le familiari cifre che cominciano da 1, 2, 3, eccetera, eccetera. Questa speranza di Pitagora, come ben noto, o almeno come si ricorda forse qualcuno dagli studi di ginnasio-liceo, si infranse quando qualcuno mostrò che c'erano delle relazioni tra grandezze che non potevano essere espresse come una frazione, cioè come un rapporto tra due numeri naturali. Non bisognava molto cercare in cose strane, perché basta pensare al rapporto tra la diagonale e il quadrato, il diagonale del quadrato e il lato del quadrato, se uno prende come unità di misura il lato del quadrato, la diagonale risulta avere un valore molto curioso che può essere approssimato, ma che non può venire espresso nel contesto dei Pitagorici come un rapporto tra due numeri interi. Si attribuisce questa scoperta, secondo alcuni allo stesso Pitagora, secondo altri a qualcuno dei Pitagorici, poi c'è il traditore, il paso di Metaponto, il quale è quello che l'ha divulgata e vuole la leggenda che si sia poi gettato in mare per scontare questo peccato nel, lo credo, dalle parti dello stretto di Messina. Il che vuol dire una cosa molto semplice, se siete dei matematici innovativi che vanno contro qualche grande programma stabilito, non fate gita in barca, perché può capitare, diciamo così, un incidente, anche se qualche dubbio sui paso viene e che quel suo gettarsi in acqua sia stato, come dire, spinto un aiutino non direttamente proveniente dalla psiche di paso, ma probabilmente da qualche robusto Pitagorico che era presente su quell'imbarcazione. Detto questo, il programma di Pitagora, per cui l'aritmetica è la prima delle scienze ed è la base di tutta quanta la nostra comprensione del mondo, viene ridimensionato. se voi vi spostate da Pitagora a Platone, qui vi renderete conto subito che c'è un cambiamento. Platone ci dice non che l'aritmetica è la base della nostra comprensione della realtà, ma è la geometria. e la ragione è molto semplice ed è espressa in pagine molto famose del dialogo del Menone in cui Socrate interroga quello che può sembrare uno schiavetto ignorante e gli fa tirare fuori il modo per duplicare il quadrato. Il modo è molto semplice. Dal punto di vista aritmetico, se noi possedessimo un qualcosa che esprime la relazione tra la diagonale e il lato del quadrato, siccome nel caso del quadrato di lato 1 questa diagonale da un tra virgolette numero che è moltiplicato per se stesso dovrebbe dare appunto il numero 2 basta geometricamente prendere la diagonale del quadrato di lato 1 usarla come lato di un nuovo quadrato e questo quadrato sarà il doppio del quadrato di partenza. Il problema è che geometricamente si risolve in maniera molto intuitiva ma ahimè invece se lo dite come lo dico io dovete avere una nozione di numero che si adatta anche ai rapporti scusate ai rapporti razionali. E' stato fatto questo però non è stato fatto esattamente ai tempi di Socrate o di Platone né tantomeno di Paso o di Metaponto ma è stato fatto da Georg Cantor e Richard Dedekind nell'Ottocento nel grande momento in cui i matematici estendono potentemente la nozione di numero e forniscono una teoria che è la cosiddetta teoria dei numeri irrazionali per i quali sono normalmente ancora maledetti dai nostri studenti di che si devono appunto familiarizzare con queste curiose entità e questo tipo di problematica è una problematica che mostra quanto sia direi contorto anche il progresso in matematica non è che sia un progresso che si consegue con delle estensioni molto come dire facili e immediate degli strumenti che abbiamo ereditato ma tante volte si richiede un cambiamento molto forte nel modo di pensare Claudio Bartocci proprio a questi argomenti ha dedicato non poche delle sue riflessioni Claudio è uno specialista di geometria che ha delle conoscenze però molto vaste molto profonde sulla storia della matematica e appunto qualche anno fa pubblicò presso l'editore Cortina un libro che si chiamava una piramide di problemi che richiamava certo la piramide che è una forma geometrica ma che ricordava appunto come la matematica cresce per problemi con soluzioni di problemi tante volte così ardite da doversi far rivedere l'intera costellazione delle idee di base su cui una tradizione di ricerca è stata impostata in dimostrare l'impossibile altro volume di Claudio alcuni di questi esempi sono presentati con grande direi ricchezza un problema per esempio che secondo me sarebbe adesso impossibile far tacere queste campane anche perché io personalmente non sento vocazioni mistico metafisiche al suono della campana semplicemente è utile il campanello quando passano la bicicletta e non si vuole finire sotto ma nella speranza che questa invocazione al Signore sia rapida ecco sia rapida mi avvio a cedere la parola a Claudio Bartocci in modo che ci racconti un pochettino che cosa intende lui quando scrive dimostrare l'impossibile e soprattutto come questi tentativi di dimostrare l'impossibile legano in maniera talvolta inaspettata il lavoro del matematico a quello del filosofo come dimostra il caso della radice di due ma lo leggerò anche quello del letterato ci sono grandi letterati del nostro novecento che si sono applicati a questo problema di confine tra matematica letteratura da James Joyce in Ulysses fino a un altro grande autore che so che Claudio ama moltissimo che è Robert Musil e che dedica delle pagine stupende proprio a come si comincia ad ampliare per dimostrare l'impossibile il sistema dei numeri che noi utilizziamo nei nostri conti appunto Musila dietro di sé Dedekin Cantor e tutti coloro che hanno lavorato potentemente in questa estensione della nozione di numero quella che avrebbe forse permesso a Pitagora di cavarsela ma al tempo non c'erano né Dedekin né Cantor e i pitagorici diciamo così avevano risposto alla sfida con l'immersione radicale di Paso di Metaponto nell'acqua dello stretto ecco senza andare a tragedie di questo genere la dimostrazione dell'impossibile può essere anche e soprattutto un modo interessante di far riflettere coloro che tentano soluzioni di problemi letterari e nuove modalità di descrizione per arricchire appunto i loro strumenti che hanno a disposizione Claudio grazie di essere qui ti passo immediatamente la parola e mi scuso con voi se l'ho fatta troppo lunga grazie buonasera buonasera e grazie di essere qui Giulio Giorello come di consueto come gli è consueto ha magistralmente aperto questa la chiacchierata di questa sera e beh siamo arrivati a Platone adesso verso mezzanotte l'una di questa sera arriveremo passo dopo passo fino a Cantor ma voi siete pazienti scherzo ovviamente non è mia intenzione qui fare una lezione di storia della matematica e tantomeno diciamo di tediarvi con con un eccesso di dettagli nella disciplina anzi farò un passo indietro per così dire anzi due passi indietro rispetto sia a Giulio sia all'amico Massimo Donà e per perporre il la questione di cui intendo trattare questa sera in una cornice molto molto più vasta e fin dai tempi della della scuola e correggetemi se se non se non è così sia nei vostri ricordi personali sia nell'esperienza che riguarda i vostri figli i vostri nipoti eccetera eccetera si ha una divisione netta tra quello che è il sapere cosiddetto umanistico da una parte e quindi la letteratura italiana letterature di altri paesi il greco il latino la filosofia anche che vengono etichettate come materie umanistiche e dall'altra parte ci sono invece le materie scientifiche cioè la matematica la fisica la chimica la biologia ora secondo me il compito il compito della filosofia adesso io qui sono circondato da filosofi quindi potrebbero arrivarmi strali diciamo da destra da sinistra diciamo ma io credo che invece il ruolo della filosofia il ruolo del pensiero il ruolo del pensiero sia quello di non accettare il mondo così come ci viene posto ma di interrogarlo e di interrogarci ha senso questa distinzione? Cosa significa questa distinzione? Allora per quale motivo diciamo così si traccia una linea netta di divisione fra queste materie scientifiche e le materie umanistiche adesso è chiaro questo lo dico come premessa e non voglio dilungarmi è chiaro che ogni argomento poi ha bisogno di un approfondimento di tipo specialistico cioè nessuno io non sono qui per perorare la causa come dire di un'ignoranza diffusa quindi è chiaro che se vogliamo parlare di latino dobbiamo studiare la grammatica latina e se vogliamo parlare di matematica di algebra per esempio di geometria dobbiamo conoscere alcune regole fondamentali questo è ovvio se vogliamo parlare di letteratura italiana dobbiamo non solo consultare i manuali ma possibilmente leggere i testi bene allora possiamo fatta questa premessa debita no perché c'è sempre il rischio che qualcuno dice ma che cosa è cosa vogliamo fare un minestrone dove si no non voglio fare nessun minestrone o per meglio dire voglio fare un minestrone ma mantenendo le specifiche caratteristiche organolettiche delle singole verdure coinvolte diciamo la zucchina e la zucchina il cavolfiore il cavolfiore il fagiolo e il fagiolo ma possono essere mescolati e non voglio mi domando che senso abbia nella come dire nell'orto scolastico tracciare una linea che tra le materie scientifiche e le materie umanistiche e allora questa distinzione potrebbe essere motivata in due modi o interno o esterno e quello esterno aspetto le vostre domande perché non voglio essere troppo fantasiodo vediamo interno interno cosa vuol dire dobbiamo vedere la storia cioè i testi la filologia adesso come al solito uno cerca di costruire una tradizione e abbiamo già visto che per esempio in Platone quindi molti e molti secoli addietro rispetto a noi beh questa distinzione non sembra sussistere non ci sono dei dialoghi che vengono etichettati come umanistici e scientifici nel Menone per esempio che Giulio Giorello molto a proposito ha citato non c'è non è che ad un certo punto si cambia carattere per segnalare attenzione qui inizia la matematica la matematica è incorporata all'interno del discorso scientifico senza soluzione di continuità e lo stesso si potrebbe dire per quanto riguarda le materie scientifiche di altri pensatori dell'antichità uso questa parola un po' vaga in questo caso per esempio mi viene in mente un poeta latino Lucrezio nel De rerum natura nel De rerum natura si dà una presentazione della filosofia epicurea o più in generale atomistica che diciamo non separata dalla poesia ma naturalmente questo è un altro tipo di campana ci sono varie campane questa è una seconda diciamo i viaggiatori medievali arabi erano terrorizzati dalle campane Ibn Battuta nei suoi viaggi ci racconta che la cosa che l'ha spaventato di più arrivando in una città cristiana era questo rumore che per lui era una cosa diciamo la prima volta si è proprio spaventato ma cosa succede noi siamo abituati diciamo un po' come l'armonia delle sfere non si sente più diciamo e non ci terrorizziamo un po' ci disturba almeno a me ma pazienza dicevo Lucrezio non perdo il filo spero ci presenta una appunto una descrizione della filosofia epicurea che riguarda la fisica il mondo perché non era soltanto una metafora non si parlava diciamo di corpuscoli tanto per dire ma i sostenitori di quella filosofia sostenevano proprio che il mondo fosse fatto di atomi e che questi si poi mescolavano in una maniera completamente casuale sulla base di certi principi che io non esiterei a definire fisici il famoso clinamen di cui parla di cui parla Lucrezio questa ora è vero che nel medioevo facendo un salto diciamo adesso non posso ovviamente fare una presentazione come dicevo prima passo dopo passo dovrebbe necessariamente sarò necessariamente disultorio è vero che nel medioevo si creano due come dire raggruppamenti che sono il trivio e il quadrivio di discipline nel trivio ci sono quando uno è stancho ma adesso devo cercare sono imbarcato allora sono la retorica la grammatica e la logica no? dice no la signora? no questo nel quadrivio nel quadrivio c'è la aritmetica la geometria la musica e l'astronomia questo è il quadrivio quattro e invece nel trivio la logica la grammatica e la retorica e quindi potremmo essere tentati di dire ecco questo è un antecedente antico della divisione però non è proprio così diciamo prima di tutto perché nel quadrivio come vedete c'è la musica anche che noi non diremo diciamo una materia scientifica e prima di tutto poi l'astronomia era intesa in un senso molto più ampio diciamo cioè comprendeva anche quella che noi adesso chiamiamo diciamo così in quella approssimazione poi di storica storiografica che sempre riguarda diciamo non le materie che amiamo umanistiche cioè c'era l'astrologia cioè era indissolubile sono erano due discipline indissolubilmente regate e riguardavano non solo le stelle lontane ma anche gli uomini perché si tratta gli uomini nel senso degli abitanti del pianeta terra si trattava di vedere quali potessero essere gli influssi delle stelle sugli uomini sulla psiche quindi c'erano degli aspetti che potremmo dire quasi di psicologia anche all'interno dell'astrologia quando si faceva un un come si dice un oroscopo cioè insomma era piuttosto complicato c'erano delle regole piuttosto piuttosto complicate la più bella infatti descrizione a mia conoscenza diciamo delle tecniche astrologiche è in un libro recente a firma di un virgolette umanista si chiama Grafton e il il titolo italiano non me lo ricordo ma è sul cosmo di Cardano questo è il titolo originale inglese Girolamo Cardano un medico matematico astronomo astrologo ciarlatano se vogliamo anche un po' perché Grafton ci fa vedere come la pratica astrologica barra astronomica fosse in un certo senso coerente con quei programmi del rinascimento che riguardano precisamente la persona umana e il rapporto come se vi ricordate tra il microcosmo appunto e il macrocosmo se guardiamo in Dante per esempio torno indietro adesso mi perdonerete ma voglio fare un po' di esempi Dante siamo in un festival della politica di cui credo che Dante sia anche uno dei protagonisti quindi facciamo l'esempio di Dante Dante mostra una conoscenza della per esempio della geometria euclidea che è piuttosto singolare se vi ricordate c'è un verso del paradiso che parla del geometra cioè di quello che fa geometria il geometra che tutto s'affigge quindi si concentra per misurarlo cerchio dice Dante e non ritrova quindi pensando quel principio on dell'indige cioè di cui ha bisogno beh questo è un riferimento molto circostanziato alla impossibilità cosiddetta della quadratura del cerchio Dante mostra diciamo una conoscenza diremo non professionale ma come dicevo prima piuttosto precisa della geometria così come dell'astronomia questo è più è più noto diciamo misurarlo cerchio è molto interessante anche se mi permettete diciamo questa questa piccola osservazione linguistica che Dante usi questa parola che è una parola del volgare italiano non usa circolo e usa esattamente cerchio la parola diciamo in voga a a Firenze per proprio per come dire per dimostrare per rivelando così al suo lettore che lui sta parlando non solo di una materia teorica la materia degli elementi che probabilmente conosce ovviamente non nel testo perché non diciamo lui sicuramente non ha mai letto delle traduzioni degli elementi ma degli dei sunti diciamo che vengono prodotti diciamo in occidente nell'occidente latino a partire da Boezio che è un filosofo sì ma è anche quello che dà all'occidente medievale il il sunto appunto degli elementi e dei libri di logica di Aristotele quindi vedete anche qui le distinzioni un po' vacillano scusate dicevo non ho finito la frase c'è una relazione fra questa geometria quella che si studia diciamo e la pratica di geometria cosa è la pratica di geometria la pratica di geometria è quella che si studiava nelle scuole d'abaco del tempo cosa sono le scuole d'abaco le scuole d'abaco sono le scuole dove i mercanti sostanzialmente i figli dei mercanti e gli artisti imparavano l'aritmetica e la e la geometria da chi li imparavano dai professori di università no a Firenze ma anche da queste parti a Venezia poi a Padova eccetera c'erano delle scuole d'abaco in cui insegnavano i cosiddetti maestri d'abaco ora l'abaco di cui parliamo non ha niente da che vedere con il pallottoliere romano ma una parola che si riferiva ad un certo modo di fare l'aritmetica con le nuove cifre indo-arabe uno, due, tre non diciamo con le vecchie cifre romane chi insegnava nelle scuole d'abaco beh come dicevo mercanti quindi gente interessata a sapere in quanti fiorini si potevano diciamo come si dice cambiare non so la moneta di Ambersa piuttosto diciamo che diram se erano questi del circolavano nel bacino mediterraneo ma anche artisti quindi persone interessate per esempio maestro d'abaco era Piero della Francesca tanto per fare un esempio il quale non solo dipinge i meravigliosi le meravigliose opere che tutti conosciamo ma è autore di un piccolo trattatello sui solidi regolari o pseudo regolari diciamo quasi regolari cioè poliedri stellati e quant'altro cosiddetti anche solidi archimedei e anche sempre Piero di tentativi di risoluzione dell'equazione di terzo grado come sapete forse non lo sapete ma ve lo dico è un'equazione di cui nell'antichità non si conosceva la forma generale di soluzione l'equazione di secondo grado cioè quelle del tipo x al quadrato più eccetera eccetera cioè quadrato più cosa come dicevano gli antichi uguale numero così era il linguaggio dei maestri d'abaco erano sono equazioni che noi tutti studiamo la soluzione di queste a scuola ed erano sostanzialmente note fin dai babilonesi se vogliamo diciamo se per quanto in maniera diciamo non formulistica ma attraverso gli esempi e poi le soluzioni formali vengono invece descritte con molta accuratezza nei trattati prima indiani indiani dell'India siamo all'inizio del settimo secolo e l'autore è Brahma Gupta ed il trattato si chiama Brahma Sputra Siddhanta se lo pronuncio correttamente dagli indiani si passa sempre semplificando agli arabi virgolette d'obbligo perché in realtà si parla di una civiltà una cultura che si esprime in lingua araba ma nella quale alla quale partecipano un insieme di popoli che gravitano nell'area dell'Asia centrale la nuova capitale dell'impero dell'impero islamico è Baghdad che è fondata alla fine dell'ottavo secolo e la nuova dinastia dei califi abbassidi fonda il suo potere proprio nelle relazioni con queste popolazioni e queste città dell'Asia centrale Samarkand eccetera eccetera ci sono i libri il libro in principale è il libro di algebra la parola è una parola araba aljabr vuol dire ricostituzio come la chiamavano i latini cioè la ricomposizione per gli spagnoli la parola aljabrista vuol dire uno che rimette a posto le ossa anche questo fino a Cervantes quindi molti secoli dopo quindi è una parola della lingua araba trattato è il kitab cosiddetto di aljabre e almukabala sono due le operazioni fondamentali della nuova disciplina il l'autore non l'ho citato perché ero distratto si chiama non so pronunciarlo ma credo che si dica più o meno al corismi o corismi ci deve essere un'aspirazione con riferimento alla sua regione d'origine che è una regione a sud del lago di Aral che si chiama la corasmia con un termine geografico antico scrive in arabo il trattato verrà tradotto molti anni dopo ma nell'occidente il primo libro di algebra è il Liber Abaci cioè il libro d'abaco di Leonardo Pisano detto Fibonacci ora qui vedete per esempio io penso che a livello scolastico vedete adesso vi ritorno a chiudere alcuni cerchi sembra che stia girando in tondo ma in realtà sto menando la mia argomentazione secondo me non si può capire quella civiltà che spesso è stata detta della mercatura che è stata poi la civiltà che ha dato diciamo ha prodotto i primi vagiti dell'umanesimo con Dante diciamo e poi con Petrarca e Boccaccio mercatura quel tipo se non si tiene conto anche di questo personaggio importantissimo che è Fibonacci e della fioritura delle scuole d'abaco sono due fenomeni che storicamente e concettualmente secondo me non possono essere distinti è un peccato diciamo che i nostri studenti o qua noi quando eravamo studenti non abbiamo visto le cose in questo modo cioè che questa parte etichettata come scientifica è l'algebra questa no ma questa faceva parte della vita di tutti i giorni faceva parte del cambio delle monete del fiorire diciamo di quella che poi è arrivata ad essere la partita doppia dei fiorentini tanto per intenderci la fondazione del concetto di banca non si fanno diciamo in generale se uno è serio per fare una banca bisogna anche saper far di conto no? se no si fallisce poi invece loro lo evitavano accuratamente non si costruiscono dei capolavori come il battistero se non si sa far di conto e se non si ha la pratica di geometria non si può togliere in maniera artificiosa la conoscenza geometrica dalla conoscenza architettonica non si può pensare che Brunelleschi fosse solo un artista era anche un tecnico una persona che conosceva tutti e due gli aspetti che noi secondo me impropriamente denominiamo umanistici e scientifici e così Piero e così Paolo Uccello non è quello di cui sto parlando un fenomeno marginale tra il 1290 e il 1500 in Italia vedono la luce 200 trattati di abaco in lingua volgare se posso essere un po' polemico ma tanto non so se ci siano dei filologi qui i filologi italiani mostrano tanta attenzione a questo fenomeno che non c'è nemmeno un'edizione critica di nessuno di questi credo nel senso ieri ho chiesto diciamo conferma ad uno storico della lingua italiana che risponde al nome di Giuseppe Antonelli che mi ha detto sì effettivamente mi sembra che a me che non ce ne sia uno cioè un'edizione critica di una pratica di geometria sarebbe interessante e la nostra conoscenza della lingua della storia della lingua italiana secondo me ne trarrebbe vantaggio adesso potrei continuare in una carrellata diciamo attraverso la lingua italiana nomi diciamo molto famosi come quello di Galileo chiaramente che o anche o anche Leonardo vi leggo una cosa diciamo che mi piace molto che ha scritto Calvino in una delle lezioni americane lezioni americane pubblicate l'anno della sua morte se vi ricordate no qualche anno dopo la sua morte 1988 qualche anno dopo due se non erro il capitolo da cui sto leggendo guardate un po' si intitola esattezza l'anima poi ci arriviamo eventualmente prima di questa notte l'esempio scrive Calvino più significativo di una battaglia con la lingua per catturar qualcosa che ancora sfugge all'espressione è Leonardo da Vinci i codici leonardeschi sono un documento straordinario di una battaglia con la lingua una lingua ispida e nodosa alla ricerca dell'espressione più ricca e sottile e precisa quindi potrei continuare appunto Leonardo Galileo alcuni lirici del seicento per esempio più o meno marinisti più o meno sconosciuti come non so Giacomo Lubrano che scrivevano sui vermi del baco da seta per esempio scrittori del settecento o del fine seicento inizio del settecento Redi Magalotti che introduce in italiano moltissimi neologismi nelle cosiddette lettere odorose Algarotti il Newtonianesimo per le dame Leopardi che scrive una storia dell'astronomia in gioventù mi ricordo mi sembra di ricordare e nello Zibaldone abbondano le osservazioni sulla necessità per la lingua italiana di essere creativa come può essere una lingua cioè di creativa nel senso di coniare i termini di cui abbiamo bisogno perché altrimenti si rischia la colonizzazione linguistica da parte del francese quindi un problema che era chiaro Leopardi all'inizio dell'ottocento devo parlare oppure devo parlare non so vado avanti è pericoloso quando uno ha un microfono poi adesso vorrei cambiare completamente fino a questo momento siamo rimasti in Italia nella lingua italiana eccetera ora Giulio ci ha invece usciamo adesso usciamo a guardare il mondo che ci circonda il mondo europeo in particolare Giulio Giorello vi ha già detto che qualcosa di importantissimo accade a metà circa dell'ottocento insomma prima metà dell'ottocento seconda metà dell'ottocento la matematica cambia pelle sostanzialmente diventa molto simile alla matematica che conosciamo oggi e una rivoluzione se possiamo usare questo termine diciamo che è un termine politico che poi è diventato un termine di storia della scienza ma la filiazione era chiara almeno agli inizi quindi un cambiamento radicale di visione riguarda i numeri il concetto di numero ma anche il concetto di spazio questo è importantissimo attraverso dei nomi che cerco di pronunciare lentamente sono due tedeschi uno si chiama Gauss e il secondo personaggio a cui sto pensando si chiama Riemann Bernard Riemann ora piccolo piccolo attacco di nuovo attacco nel senso di aggancio a quello che stavo dicendo sulla distinzione tra sapere umanistico e sapere scientifico secondo me Riemann è una figura centrale anche della filosofia non si studia in generale da questo punto di vista e secondo me è abbastanza straordinario perché nel 1854 precisamente la sua lezione di abilitazione contiene quella che è una visione completamente nuova del concetto di spazio ora questo non solo porterà fatemi essere un po' semplicistico nel giro di qualche decennio di pochi decenni a quella che è la teoria della relatività generale di Einstein quale riconosce il suo debito perché senza Riemann non c'è Einstein ma in filosofia anche avrà una certa importanza perché c'è una linea che lega per esempio le idee di Riemann a quelle che saranno le idee del fondatore della fenomenologia cioè Husserl anche se Husserl critica è critico nel confronto di Riemann però ne tiene conto in maniera importante non sempre dobbiamo dire che l'autore A è importante soltanto se l'autore B che lo segue gli dà ragione ma anche se gli dà torto perché le nuove idee scaturiscono proprio dal confronto dal dialogo anche dalla critica ovviamente ora succede più o meno negli stessi negli stessi anni che questa nuova visione della matematica una matematica che come diceva Cantor ha la sua essenza nella libertà non sto diciamo sto citando sostanzialmente alla lettera quello uno dei passaggi filosofici di uno importante articolo di Cantor degli anni 80 dell'800 l'essenza della matematica sta nella sua libertà freiheit non sto traducendo diciamo ma forzando la mano beh questa visione della matematica proprio per la sua novità per il suo impatto interessa anche personaggi che matematici non sono ho già menzionato i filosofi ma bisognerebbe menzionare anche i letterati cioè quelli che normalmente noi chiamiamo letterati cioè poeti cioè scrittori ripeto non è un interesse va un interesse così casuale è un interesse che secondo me si manifesta in questi personaggi di cui adesso parlerò brevemente esattamente per questo perché si dicono ma marca miseria ci sono delle idee nuove nuovo concetto di numero perché questi personaggi dicono che l'essenza della matematica sta nella libertà che cosa sono questi concetti di spazio ora quello che vi vorrei anche diciamo comunicare in un certo senso se ci riesco è che l'amore per una disciplina l'amore per la matematica si può anche manifestare in questo modo cioè non è necessario come ci insegnano spesso i i nostri gli sono gli insegnanti diciamo sia i miei colleghi in università sia i miei colleghi che insegnano nelle scuole superiori attraverso una durissima disciplina che inizia da sapere la distinzione fra l'incentro e il baricentro in un triangolo ma no l'amore per la musica quanti di noi io per primo io sono appassionato di musica non so niente non so a malapena leggere uno spartito non sono come il mio amico Massimo Donà che è un professionista però io anche nel mio piccolo amo la musica mi piace ascoltare ascolto Bach ascolto musica classica nella mia ignoranza ma ne traggo un piacere e forse anche come dire sono una persona più ricca probabilmente spero diciamo beh per la matematica può essere così anche così come anche per la filosofia cioè si possono percorrere alcune strade ci si può appassionare si possono leggere dei libri non è necessario leggere l'articolo diciamo e rifarsi le dimostrazioni dalla Z questo che sto dicendo non c'è una modalità di accesso ce ne sono tante e queste spesso sono personali questo secondo me non vale solo per la matematica siamo noi i padroni di noi stessi dobbiamo recuperare un rapporto con il sapere con un sapere articolato diciamo uscendo fuori anche dalle strade battute e seguendo quelle che sono le nostre inclinazioni personali e troppo spesso di questo il percorso scolastico e anche universitario non tiene conto perché non si può separare secondo me il sapere dalla libertà sei d'accordo Giulio posso darti la parola così io bevo poi riprendo su Musil tutti avremmo voluto essere tuoi allievi di matematica no io volevo ma credo che siamo nello stesso periodo di tempo di cui lui accennava Bartocci cioè la seconda metà dell'ottocento ricordare un rapidamente proprio un fatto istituzionale fatta l'unità d'Italia si trattava di unificare i vari sistemi di insegnamento che erano molto diversi e c'è una proposta che viene fatta da alcuni intellettuali negli anni sessanta che viene discussa e che vorrebbe attenzione mettere l'insegnamento della filosofia dentro quelle che noi chiameremo oggi i dipartimenti di materie scientifiche a biologia a fisica a matematica e questo auspicio non è stato perseguito ed è la cosa più curiosa è che uno dei grandi sostenitori di questa proposta è un grande intellettuale del nostro ottocento novecento che si chiama Benedetto Croce cioè Benedetto Croce voleva un insegnamento della filosofia dentro le stesse facoltà scientifiche sarà perché pensava che la filosofia desse luce a qualunque pratica fatto sta che era una proposta estremamente coraggiosa perché si abbiano delle le cattedre o comunque degli insegnamenti di filosofia della scienza o di storia della scienza anche o di logica nelle facoltà scientifiche bisogna aspettare il secondo dopoguerra cioè bisogna aspettare soprattutto quel lavoro poderoso fatto da Ludovico J. Monat perché questa spaccatura tra umanesimo e discipline scientifiche venga non dico colmata ma si cominci a vedere una possibilità e questo dovrebbe farci riflettere molto sulla struttura della scuola italiana e su quello che tu Claudio hai chiamato appunto un esistente che non siamo mica tenute ad accettare per fortuna ecco allora adesso è un momento mancano ancora dieci minuti poi saremo lieti di avere anche delle domande dal pubblico di spiegare il titolo di questa di questa chiacchierata cioè anima ed esattezza e cioè di spiegare di indicarne la fonte allora la fonte è un romanzo di Robert Musil Robert Musil è un autore austriaco ma austro-ungarico dovremmo dire perché è nato nel quando questo impero ancora esisteva e in lingua tedesca la sua formazione lo ricordo brevemente è è un po' diversa diciamo dai nostri da quelli che sono i nostri percorsi scolastici entra prima in un collegio militare e di cui non ha un buonissimo ricordo se posso permettere posso dire parolacce lo chiamo il buco del culo del mondo è letterale la citazione è così e nel Turles e poi studia per la carriera militare quindi fa una sorta di bienio di ingegneria a quel tempo le università diciamo di lingua tedesca erano quasi tutte uniformizzate su un certo programma soprattutto di analisi matematica di meccanica razionale lo stesso programma che poi sarà copiato dai nostri politecnici di Milano viene fondato e apprende i programmi tedesco e austro-ungarico quindi per esempio l'ingegner Gadda studierà seppure un po' di anni dopo le stesse cose di Musil e poi Musil si si interessa alla filosofia però quella filosofia che veniva fatta allora cioè una filosofia molto vicina alla psicologia adesso non vi sto a tediare con dei nomi un po' strani insomma lui è un allievo di Karl Stumpf che a sua volta è un allievo di Brentano e scrive una tesi di dottorato su Mach Ernest Mach un fisico quindi se volete di filosofia della fisica potremmo dire critica e poi quando gli viene offerto un posto di assistente all'università di Graz rifiuta e dice no io voglio fare lo scrittore ha scritto già un romanzo che sono i turbamenti del giovane Törles dove ci sono delle pagine mirabolanti anche che parlano di matematica e successivamente comincia a lavorare successivamente non è la parola giusta perché insomma i suoi quaderni ci mostrano che in realtà la genesi del romanzo è molto lunga ci sono insomma già all'inizio del novecento ci sono delle pagine che in cui compare un personaggio che poi diventerà il protagonista di questo romanzo che è l'uomo senza qualità l'uomo senza qualità der Mann ohne Eigenschaften perdonate la mia pronuncia tedesca che è molto scolastica Ulrich Ulrich è un matematico è un matematico sui generis e la sua aspirazione è quella di ricomporre esattamente il dissidio questo è tra anima ed esattezza o detto in termini altrettanto musiliani fra la dictum fra la poesia e l'erkenntnis cioè la conoscenza in cantiano insomma adesso qui veramente ci sono molti filosofi ma quindi Ulrich si muove per così dire o l'azione diciamo i pensieri di Ulrich il matematico oscillano fra questi due poli fra il polo dell'anima e il polo dell'esattezza ed è lo stesso Musil che ci guida diciamo in questo percorso è un percorso diciamo che lui sente probabilmente sulla sulla propria pelle se si leggono i diari di Musil o le sue lettere si vede come il suo amore per la letteratura l'amore dichiarato che gli ha fatto rinunciare al posto di assistente di filosofia all'università di Graz non gli impedisce di continuare a tenersi aggiornato nei campi della matematica legge libri di teoria della funzione della fisica conosce quando vede diciamo quando sente parlare della teoria della relatività si informa scrive anche delle note ad uso non so di qual di chi non mi ricordo più di sua figlia anche sulla meccanica quantistica è attento a quello che succede in un ambito che all'epoca era scientifico anche se noi adesso lo etichettiamo come filosofico cioè il circolo di Vienna il grande progetto di rinnovamento o se vogliamo della filosofia o di azzeramento della metafisica se vogliamo essere molto radicali e anche cosa succede se si scatena una delle piaghe abbiamo parlato male di qualcuno di cui non dovevamo parlare male una delle piaghe dopo le campane le cavallette e quindi l'origine diciamo del titolo di questa di questa chiacchierata è il romanzo di Musil adesso Musil però non bisogna pensarlo non voglio parlarvi perché sennò abbiamo troppo poco tempo come un esempio isolato se sono moscerini se si vanno se si va a studiare diciamo un po' a percorrere la letteratura diciamo tra la fine dell'ottocento e l'inizio e i giorni nostri gli esempi si possono moltiplicare di autori poeti o romanzieri che trovano nella nella scienza in particolare nella matematica soprattutto la fisica è più diciamo per quelli per gli autori di fantascienza che trovano uno stimolo per l'opera nomi per esempio sono Paul Valéry poeta francese nei Cahiers abbandona un certo modo di fare poesia intorno al 1892 e e quindi si autorelega in un silenzio poetico che durerà fino al 1917 con la pubblicazione della giovane Parca la Gioin Parc e cosa fa? si mette a studiare matematica matematica fisica i trattati di Maxwell teoria delle funzioni e scrive un strani saggi diciamo sospesi tra l'alteratura e e non so la meditazione potremmo dire cioè la serata con il signor Teste la vecchimessia Teste l'introduzione al metodo di Leonardo da Vinci e in terra diciamo sempre nell'impero austro-ungarico un altro esempio importante è Broch Herman Broch sostanzialmente un contemporaneo di Musil che è figlio di una insomma di un rampollo di una famiglia di industriali e ad un certo punto si mette a studiare matematica fisica filosofia all'università e produce romanzi di cui guardate caso anche i protagonisti sono spesso matematici uno si chiama l'incognita per esempio questo è più difficile da trovare in libreria ma è un romanzo diciamo degli anni trenta l'incognita la quantità incognita letteralmente di un beccante Grosse potremmo arrivare diciamo anche in in Italia di nuovo un poeta diciamo adesso parzialmente dimenticato è Leonardo Sinisgalli per esempio che è un lettore appassionato di un lettore appassionato di Valéry che pubblica un un libro piuttosto interessante diciamo che si chiama Furor Mathematicus uscito nella prima edizione negli anni negli anni 50 in realtà è una raccolta di scritti precedenti dagli anni trenta in avanti di cosa si parla si parla di poesia si parla di matematica si parla di letteratura non c'è una distinzione oppure il Gadus il Gadda il Gadda ha una formazione di ingegnere come sappiamo da un certo punto di vista è un letterato con la L maiuscola perché come sappiamo diciamo dagli studi dei critici letterari Bisella in particolare quella tradizione lombarda che lui riprende anche quell'amore per la lingua che era stato di Dossi per esempio ma su su questo terreno poi attecchisce anche il suo amore per la scienza se si legge la Dalgisa per esempio o la meditazione milanese per esempio in cui abbondano le metafore scientifiche questo è un punto essenziale che viene colto da moltissimi autori per esempio Levi primo Levi che ha una formazione di chimico Carlo Levi è un medico si vede secondo me meno ma Levi primo lo dice chiaramente che le metafore della chimica sono essenziali per la sua opera di scrittore un non scienziato se vogliamo così dire di formazione per esempio Calvino insiste molto su questo sulla necessità di andare a guardare quello che succede anche nell'ambito per esempio dell'astrofisica soprattutto per Calvino e di una certa matematica combinatorica Calvino frequenta degli ambienti francesi che si chiamano quelli dell'ulipo cioè dell'ouvroir delle letterature potenzielle il laboratorio di letteratura potenziale che erano in crisi di matematica il laboratorio era stato fondato da Quenot e un ingegnere chimico in realtà un chimico François Lillionet quindi Calvino anche si muove in uno scenario di questo tipo adesso la mia domanda e poi smetto e lascio la parola a voi è senza far diciamo forzare delle conclusioni ma non ci viene almeno il dubbio che questa rigida divisione tra le materie umanistiche riprendo da dove ho iniziato letteratura eccetera eccetera e le materie scientifiche poi si traduca in un impoverimento non si rischia poi di non riesce come si fanno a leggere certi testi se si ignorano gli apporti fondamentali che gli stessi autori di quei testi considerano fondamentali che vengono dalla fisica dalla matematica e dalla chimica io credo diciamo senza avere l'ambizione di Ulrich di ricomporre il dissidio tra anime ed esattezza che quantomeno accettando ovviamente che ci sia questo binomio questo sarebbe credo che non si possa negare insomma non si possono far collassare le due cose però vale forse la pena muoversi muoverci tra i due poli e cercando ciascuno come dicevo prima secondo i propri gusti le proprie inclinazioni di cogliere quello che più che di più affascinante c'è sia dalla parte dell'anima sia dalla parte dell'esattezza grazie a Claudio bellissima narrazione relazione e adesso se qualcuno di voi vuole fare qualche domanda prima che si scateni l'inferno nessuna domanda lei sì buonasera intanto vi ringrazio per le suggestioni che ci avete dato ecco io inviterei specialmente il relatore a darmi qualche altra suggestione su questo piano il titolo dell'incontro è anima ed esattezza no? allora l'anima ha a che fare è un concetto così impalpabile non può difficilmente da definire no? qualcosa che ha a che fare anche alla fede no? mentre l'esattezza ha a che fare con la dimostrabilità e ha a che fare con la misura allora l'incontro tra qualcosa di impalpabile di non definibile con un concetto diciamo che ha a che fare con la misura e con la definizione è è stato come dire è il terreno di questo incontro negli ultimi due secoli è stato più arduo se riflettiamo sul concetto di infinito no? cioè l'infinito ha a che fare un po' con con qualcosa di di fede di impalpabile ma ha a che fare con il concetto matematico che ha avuto delle definizioni che però queste definizioni mi aiuti lei che è l'esperto non hanno non sono proprio come dire non sono una rappresentazione fissa e numerica non è qualcosa come qualcosa che continua a gonfiarsi ecco vorrei qualche suggestione da parte sua su questo un'ultima cosa anche perché no 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 perché c'è il vezzo è una cosa che mi rode perché c'è il vezzo che quando uno sbaglia un congiuntivo si sente in colpa e quando uno non sa fare di conto è quasi un vezzo e una medaglia su quest'ultima cosa non commenterò ma sulla invece prendo molto volentieri lo spunto che lei mi offre molto appropriato dell'infinito quando si parla di anima forse non sono stato chiaro prima parlando di musile non si intende non si intende un concetto religioso se non in maniera indiretta l'anima è quella diciamo è la sede delle emozioni quello che ci fa palpitare il cuore se mi permette di essere così svenevole è la poesia la musica questo diciamo si intende diciamo in questa opposizione come dicevo prima è la stessa opposizione fra la poesia cioè o per meglio dire quel tipo di conoscenza legata alla poesia e quel tipo di conoscenza che invece è legata all'attività razionale questo è l'opposizione in musil insomma e il metodo prima sono stato come al solito un po' tagliato perché sennò si dicono troppe cose c'è uno strumento anche che permette a Ulrich di barcamenarsi per questi due poli ed è l'ironia e su questo si potrebbe dire moltissimo insomma ma non lo faremo insomma l'infinito beh l'infinito è diciamo è passato da concetto diciamo da concetto matematico a concetto filosofico e di nuovo a concetto matematico e in un certo senso questo io per esempio sono in disaccordo con alcuni dei miei colleghi nella lettura cioè penso che le critiche per esempio di Hegel alla diciamo che scrive nella prima parte dell'ottocento al al concetto di infinito matematico come veniva usato in quegli anni lì cioè come infinito potenziale siano delle delle critiche fondate sostanzialmente cioè Hegel dice matematici abbiate il coraggio di lanciarvi verso il vero infinito adesso lui non essendo un matematico è troppo facile accusare dire non sa di cosa sta parlando beh però l'indicazione era giusta diciamo un'indicazione di prendere la matematica anche con le passioni diciamo un grande poeta romantico Novalis scriveva nelle sue cose non c'è matematica senza entusiasmo il matematico è un entusiasta di per sé poi per arrivare al concetto matematico attuale di infinito beh il protagonista è di nuovo Cantor e sarebbe lungo spiegare diciamo quelle che sono le innovazioni di Cantor ma sostanzialmente Cantor cerca che è preceduto bisognerebbe dire da un pensatore geniale che si chiama Bolzano un prete cattolico praghese Cantor si lancia diciamo così oltre i numeri che servono per contare per definire un nuovo mondo un paradiso come verrà definito da Hilbert nessuno ci potrà più cacciare dal paradiso di Cantor secondo me i testi di Cantor sono testi meravigliosi vanno letti e questo secondo me è un po' il problema cioè non basta spiegare nei termini di oggi cos'è l'infinito i numeri i cardinali gli ordinali i transfiniti eccetera eccetera potrei fare una lezione ma rimarreste ancora in meno immagino diciamo non basta questo non si capisce Cantor soltanto bisogna leggere capire diciamo qual è il suo il suo afflato e anche la sua ossessione perché lui ha l'ossessione per queste gerarchie questo diciamo finisce anche diciamo in manicomio poi alla fine della sua vita non so se direttamente per questo oppure no ma diciamo sì anche nei suoi primi scritti si vede come lui ha questa ossessione in questa produzione lui la chiama una produzione dialettica di concetti questo è quello che scrive Cantor lui crede che è convinto che la sua matematica sia questo i matematici infatti anche dell'epoca storcono un po' il naso e a me soprattutto a me non interessa voglio dire il comportamento più che legito non può storcere il naso non può storcere il naso quello che invece non mi piace è poi l'appiattimento storiografico cioè la correzione a posteriori di Cantor diciamo togliendo questi aspetti e facendolo diventare semplicemente un insieme di passaggi logici alla lavagna si può fare bisogna anche saperlo fare in un certo senso per capire Cantor intendiamoci esattamente come è difficile entrare in profondità nell'opera di Bach se non si sa niente di contrapunto ovviamente come ritorno a quello di prima però si può anche fare il contrario uno si può ascoltare Bach e goderselo e perché no invece di leggere tante altre cose si può anche leggere magari una delle parti degli scritti di Cantor che esistono anche in traduzione italiana e vedere diciamo come batte il cuore di un matematico magari saltando e dire qui non si capisce niente non si capisce niente veramente certe volte in Cantor io lo faccio sempre come esperimento nel mio corso di storia della matematica inizio a leggere e dico avete capito qualcosa? i miei studenti dicono no ecco vedete che non è solo la matematica voi sono studenti del terzo o quarto anno di matematica che magari conoscono già quei concetti ma non li riconoscono perché non hanno l'abitudine e la frequentazione del testo grazie a Claudio Bartocci grazie a Giulio Giorello grazie a voi dell'attenzione e a domani con Monica Centanni grazie grazie